Allora, come stavamo dicendo prima, facciamo un piccolo riassunto, abbiamo presentato la nostra associazione Metamorfosi, però rientreremo nei particolari successivamente, nella diretta FM. Ora ci teniamo a presentare appunto l'associazione Amnesty International e Juan, eccolo qui. Juan José Malgarini, che è venuto da noi, sei in diretta, sei venuto qui da noi questa sera per parlarci un po' di diritti umani di Amnesty. Quindi José Malgarini fa parte di Amnesty International Monte Rotondo ed è venuto qui per parlarcene un pochino. Ciao Juan, buonanotte. Buonasera, buonanotte a dire il vero. Per me è la prima volta che sarei una trasmissione a quest'ora. Niente, vabbè, io in sostanza rappresento a Amnesty, per me è veramente un onore, rappresentare a questa organizzazione internazionale alla quale porto nel cuore da più di venti anni nella mia vita. Non lo so, io vorrei parlare un po' in generale di Amnesty che è un'organizzazione, quello che si fa in Italia ovviamente, quello che facciamo qua nel Lazio e anche a Monte Rotondo, tutta Roma. Certo, noi infatti proprio per questo prima parlavamo di diritti, parlavamo di diritto allo studio, del lavoro, parlavamo di tante cose nel web, adesso ripeteremo tutto durante la diretta FM, ma quando parliamo di diritti umani, che sono diritti che l'essere umano possiede, noi abbiamo letto da qualche parte che ci sono dei paesi nel mondo che non rispettano per niente questi diritti. Ci puoi parlare di questi paesi? Quanti sono? Che cose rappresentano? Io vorrei fare una piccola introduzione in questo caso. Noi sappiamo, molti di noi sappiamo che dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli stati si sono riuniti e si sono autoconvocati per formare quello che noi conosciamo oggi come le Nazioni Unite, la ONU. e nel 1947 comincia attraverso Eleanor Roosevelt il lavoro per generare una dichiarazione, una carta, una dichiarazione dei diritti umani. Così il 10 dicembre del 1948 gli stati, membri alla epoca delle Nazioni Unite, formano questo trattato, questo accordo, perché in realtà è un accordo internazionale, un trattato, appunto, però che non ha carattere di legge. I paesi, ovviamente sono 30 articoli che parlano di tutte le libertà individuali e possibili che ha il uomo, reaggruppate in 30 articoli. Adesso parlo di admissi. Certo. Come nasce admissi? In 1961, a Londra, un avvocato, Peter Benenson, viene a conoscenza di un gruppo dei ragazzi portoghesi a Lisbona per il semplice fatto di avere fatto un brindisi per la liberazione delle colonie portoghesse in Africa e questi ragazzi vengono arrestati. Questo genera indignazione in Peter Benenson e scrive un articolo in The Observer, che è il giornale, chiedendo alla gente in generale di fare qualcosa per questi ragazzi, che non era possibile che nel 1961 ci siano dei ragazzi messi in galera per avere manifestato la loro idea, in questo caso per l'indipendenza di queste colonie portoghese. C'è una risposta incredibile della gente. cominciano ad arrivare delle lettere, all'epoca non c'erano mail, non c'erano messaggi, cominciano ad arrivare delle lettere scritte e questo fa sì che loro capiscano l'importanza che la gente partecipasse attivamente, così insieme a altre persone, altri amici, formaranno Amnesty International. Amnesty oggi è presente in più di 160 paesi. Wow, posso dirlo? È fortuna. Sì, ha uffici in più di cento, uffici, sezioni in più di cento paesi. Amnesty, lungo la sua storia, all'inizio comincia con quello che si chiamano i prigionieri di conscienza, che erano coloro che per avere manifestato un'idea, una loro opposizione politica o semplicemente per appartenere a una minoranza venivano incarcelate. Non avevano commesso nessun tipo di crimine, solo avere manifestato la loro idea. E questo va contro la violazione dei diritti. E' qua dove cominciano a chiedersi attraverso degli appelli la liberazione e a fare pressione sui governi, sui ministeri, giustizia eccetera e così via, per la liberazione di queste persone. Dopo Amnesty comincerà anche a lavorare sulla tortura, sulla pena di morte e oggi Amnesty va veramente verso tutti. E lo slogan in questo momento è ogni ingiustizia ci riguarda. Perché è proprio così. Esatto. Spaziate tantissimi campi. Esatto, tutto, tutto. Tutto ciò che, veramente, tutte le ingiustizie in materia di diritti umani, Amnesty è presente attraverso le sezioni, facendo pressione. Amnesty andrà crescendo nella decada del 70 al punto che avrà nel 75 il riconoscimento con il premio Nobel della pace. E l'anno dopo, nel 78, un anno dopo, avrà anche il premio Nobel, scusate, il premio delle Nazioni Unite, anche per i diritti umani. Amnesty le dà uno status internazionale. Arriva a avere uno status internazionale molto importante. Perché Amnesty non è che solo chiede appeli per aiutare alle persone che si trovano private dei suoi diritti fa anche tutto un lavoro di ricerca attraverso quello che si chiama il rapporto annuale. Io vi ho portato, è questo. Faccelo vedere, eccolo qui. Questo è un rapporto che è frutto di un lavoro di ricerca, di ricercatori speciali di Amnesty International. Non so se riesci a vedere. Sì, sì, ora, perfettamente. Comunque lo potete vedere, avere un'idea di che vi sto parlando nella nostra pagina, nel nostro sito internet, amnesty.it e questo appartiene alla sezione italiana. Potete vedere anche amnesty.org che è a livello internazionale dove c'è la comunicazione di tutte le sezioni, tutte le informazioni a livello globale. E parlando di Amnesty Italia, Amnesty ha 42 anni qua in Italia e due anni fa abbiamo fatto, nel 75, si crea la sezione italiana e da allora Amnesty Italia ha circa 160 gruppi distribuiti in tutta Italia. Ci sono 15 circonscrizioni, se non sbaglio. Le circonscrizioni sono come regioni, diciamo le regioni sono le circonscrizioni e la sezione sarebbe a livello nazionale. A livello globale c'è il segretariato e ha una governance, una politica molto democratica. Siamo estremamente democratici, trasparenti al massimo. La trasparenza è una delle cose che ci mantiene in piedi di maniera veramente degna. Nessuno può dire niente contro Amnesty, perché in base alle nostre ricerche, tutto ciò che noi denunciamo, tutto quello che l'organizzazione denuncia è fondamentato su documenti validi, con testimonianze. Noi non possiamo, sotto nessun punto di vista, denunciare o fare richieste se non ci sono gli elementi che testimoniano quello che noi stiamo dicendo. Ritornando a Italia, come dicevo, noi siamo dentro della circonscrizione Lazio e la circonscrizione Lazio occupa ovviamente tutte le province da Frosinone, Rieti, Roma e così via. E abbiamo diversi gruppi, io rappresento quello di Monterrotondo, però abbiamo diversi gruppi a Roma, qua a Roma. Ricordiamo che Juan viene dal gruppo di Monterrotondo, che è un comune limitrofo a Fontenua, noi siamo Ivonne e Simona di Metamorfosi, siamo in diretta FM su Radio Impegno, la radio che non dorme mai, dalle 24 alle 8.30 del mattino e dalle 7 alle 8.30 abbiamo la trasmissione di Trova Impegno questa mattina con Elvira Zaccari. Come dicevamo, Juan, quindi tu sei molto vicino alla realtà romana. Esatto, sì, sì, perché noi, ANMI si lavora in gruppi, però in realtà tutti i gruppi convergono sempre nella circonscrizione e anche a livello nazionale. È una questione burocratica, per così dire, per farci capire il perché dei gruppi, anche per un lavoro molto più capillare. Ovviamente noi, come gruppo di Monterrotondo, di Ammissi in Monterrotondo, siamo sempre in contatto attraverso le altre associazioni e così ci siamo conosciuti. e Monterrotondo, noi nel gruppo di Monterrotondo siamo molto attivi perché Monterrotondo è una realtà associativa molto importante. Sì, è vero. Molto importante. Ma non vorrei solo parlare di Ammissi come Monterrotondo, ma anche in generale, a livello circoscrizionale. Io fino a un mese fa ero referente di comunicazione. Me lo raccontavi prima. Sì, sì. Siamo, ecco, come dicevo, una organizzazione molto democratica dove ogni due anni ci sono le elezioni, ci sono chi se... Si rinnova, quindi. Si rinnova costantemente e abbiamo fra una ventina di giorni, se non sbaglio, il 22, il 21-22, partiamo per Palermo dove ci saranno cinque giorni per parlare di diritti umani, parlare della nostra ammissi per portarla al meglio e a migliori risultati. Ottimo. Mi dispiace se ti interrompo. No, no, no. Io volevo parlare con te di una cosa che oggi mi è saltata all'occhio. Qui siamo su Radio Impegno, quindi facciamo informazione libera. Io so che ci sono alcune tematiche che affronta Amnesty, specialmente nei paesi turchi, in Turchia, sull'informazione libera. C'è una repressione dell'informazione e quindi una conseguenza, repressione e oppressione della popolazione attraverso gli arresti di giornalisti indipendenti. Non sbaglio, ci sono queste situazioni gravi, molto gravi in Turchia e voi vi siete presi carico. Non solo denunciate a te, mi si chiede scusa per il mio italiano. No, non ti dico qua, il tuo accento argentino è affascinante, quindi ci fa piacere. Sì, la questione, la vicenda di Turchia è una vicenda molto delicata, come saprete, perché mette in rischio veramente il processo democratico, a me il processo democratico, quello che c'era di democrazia in Turchia. Ovviamente che tutto ciò che riguarda il controllo dell'informazione va contro i principi dei diritti umani e se dopo, non solo il controllo, vado oltre il controllo dell'informazione e comincio a mettere in galera a coloro che informano di maniera libera, allora sì, sono veramente violando i diritti fondamentali. La libertà di espressione è terribile, però in questo senso non solo la libertà di espressione di giornalisti, e dobbiamo parlare anche degli insegnanti, dei professori, degli attori, di tutto ciò che compone il tessuto sociale del paese. Quello che sta succedendo in Turchia è veramente vergognoso. Non tutti i paesi della comunità europea hanno preso una posizione, sappiamo benissimo perché, perché ci sono dei interessi molto precisi per Ankara con il resto di Europa e questo si mette mette l'Europa in una cattiva luce, dico ai governi in una cattiva luce che non fanno tutto quello che dovrebbero fare. Anni si impegna su questo fronte e dal primo momento che hanno cominciato a cadere questi conflitti, questi problemi, Anni si è messo, per così dire, in piede guardia a vedere che vengano rispettati. Ovviamente per noi è molto difficile, non è semplice inviare i ricercatori, gli osservatori di Amnesty, come non è semplice per nessun'altra organizzazione fare un lavoro del genere, perché viene automaticamente controllato. Quindi c'è tanto rischio anche per i volontari di Amnesty? Molti volontari, sì, il fatto di... sono figure veramente altamente formate, specializzate, non sono persone sprovedute. Non potrebbe farlo chiunque, insomma. No, certamente, sono persone che all'interno di Amnesty hanno una formazione molto specifica e sono veramente delle persone che hanno delle competenze straordinarie per arrivare a ottenere dell'informazione, se deve essere molto, molto acuto. Però, ritornando al discorso, per loro, per Amnesty, a volte è molto difficile in casi come questi o come lo Yemen o come la Siria, mandare degli osservatori, mandare dei ricercatori, perché rischiano veramente tanto. la vita. Sì, si enricchiano tutti. Amnesty si batte per i diritti umani nel vero senso della parola. Senza dubbio. Fisicamente, culturalmente, in tutti i sensi. Sul vostro sito poi si possono anche vedere, ricordiamo, qual è il sito di Amnesty? Sì, allora, a livello internazionale è Amnesty.org, a livello italiano Amnesty.it e ovviamente dopo abbiamo Circoscrizione Lazio e dopo i gruppi non ce l'hanno, siti. Però sì, abbiamo ogni gruppo ha la sua pagina Facebook. Nel caso nostro è il gruppo Amnesty Monterrotondo, dopo c'è Amnesty. Certo, poi ci sono le varie circolazioni. sul vostro sito, oltre alla situazione tragica che c'è in Russia, si parla anche di qualcosa che ha colpito noi italiani. Sicuramente tutti qui ricordiamo la storia di Giulio Reggeni. Esatto, questo a livello, a livello, quello che noi chiamiamo in Amnesty local relevance, quello che ci riguarda a noi. Ci riguarda profondamente. E ovviamente che il caso di Giulio Reggeni è un tema molto scottante per la società italiana, per l'Italia in generale. Amnesty, dal primo momento che è successo questo, ha preso posizione ferma insieme alla famiglia. La famiglia ovviamente è a fianco, noi siamo a fianco alla famiglia Reggeni lavorando giorno dopo giorno per vedere che si ottenga la verità. Ricordiamo, perché Giulio Reggeni era un ragazzo di 28 anni che faceva ricerca uscito dall'Università di Cambridge faceva ricerca al Cairo su un'indagine sui sindacati indipendenti in una giornata particolare per l'Egitto per il Cairo sicuramente tutti conosciamo la giornata di gennaio fondamentale per loro in un clima di tensioni emotive e civili il 25 gennaio dell'anno scorso del 2016 Giulio esce di casa per andare a una festa di compleanno invece sparisce questo è uno dei casi di sparizioni forzate che non è l'unico che non è isolato anzi chiedo scusa solo per dire in Messico perché in Messico anche ci sono questi problemi e in Egitto è una cosa purtroppo quotidiana all'ordine del giorno eppure più di uno leggevo sul vostro sito tantissimi 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 le sparizioni forzate in questi sistemi in questi regimi sono una moneta corrente una cosa veramente terribile e Giulio è una di queste persone e Ammisi ovviamente tiene a cuore il schiarire che si schiarisca questo fatto di Giulio luce e verità su questo ma ovviamente siamo anche per tutte le persone che sono state forzatamente sono state sparite e quello che fa Ammisi che chiede Ammisi in questo caso fondamentalmente al governo italiano che faccia pressione sul governo egiziano perché venga fuori la verità ovviamente ci sono tante ipotesi tante teorie però finché non ci saranno le prove sappiamo bene che ci sono i servizi di intelligenza c'è la polizia segreta e così via ma noi chiediamo fondamentalmente questo che facciano qualcosa di concreto e qualche giorno fa c'è stata la famiglia Reggeni alla Camera del Senato raccontando come stavano i fatti noi il 25 gennaio di questo anno passato scorso abbiamo fatto un evento memoria un presidio un setting 365 giorni senza Giulio possiamo dire 365 giorni senza verità senza giustizia senza Giulio senza verità su Giulio come è stato come è morto come ha perso la vita più che uno è stato ritrovato ricordiamo il 13 febbraio torturato esatto dopo ci sono stati una serie di despistaggi ipotetici gruppi alla quale la polizia aveva sparato ammazzato esatto che avevano avevano detto che era un gruppo che aveva loro avevano ammazzato avevano rubato cose in verosimile che si sanno benissimo gli offuscamenti esatto che sono solo per infangare come si dicono le prove e questa è una delle cose fondamentali qua a livello Italia a livello Italia ci sono altre piccole informazioni che ci puoi dare a livello di editoria di amnesty sì una cosa che mi sono dimenticato di dire perché in realtà sarebbero tante sì no no una cosa però che è importante che noi siamo tutti volontari certo attivisti volontari amnesty si sostiene attraverso delle donazioni libere dei volontari non prende soldi di nessuna azienda dita stato governo siamo totalmente indipendenti non lo accettiamo non è che non lo vogliamo non ce li offrono non lo prendiamo si viene uno stato e ci vuole dare non prendiamo soldi di nessun politico di qualsiasi è importante ricordarlo perché oggi c'è disinformazione molte persone credono che amnesty sia un'organizzazione non no profit ma di volontariato umanitario ma voglio specificare questo noi non siamo un'organizzazione umanitaria noi siamo un'organizzazione volontariato però che lavora sui diritti umani un'organizzazione volontaria umanitaria scusate è medici senza frontiere emergency save the children loro sono veramente tanto di cappello per il bellissimo lavoro che fanno certamente noi lavoriamo accanto a loro qualche qualche settimana fa siamo abbiamo siamo stati e questo voglio introdurre una campagna attuale di amnesty insieme a medici senza frontiera non mai europe questa non è la mia Europa il giorno della firma del trattato i 60 anni della firma del trattato di Roma e siamo stati a Roma e denunciando come l'Europa non prende posizione non fa le cose che deve fare in materia dei rifugiati questo per noi è fondamentale questa è un'altra campagna che stiamo portando avanti con amnesty per quanto riguarda le campagne io volevo dire questo che fa amnesty in concreto come fa noi chiediamo alla gente ovviamente oggi chiediamo anche la possibilità di chi vuole scrivere una lettera abbiamo degli appeli abbiamo in questo momento almeno sul sito admesty.it potete vedere potete andare a firmare gli appeli online attraverso l'e-mail esatto abbiamo appeli adesso rinunciarle tutti però Giulio Reggeni I Welcome Massima Cunia per Messico per violenza sulle donne spose bambine e casi particolari per Siria azioni urgenti c'è tanto per firmare e questo è quello che fa mi si chiede alla gente la sua firma per fare pressione sui governi questo è fondamentale questo è l'anima di admisty è l'unione che fa la forza esatto e noi possiamo fare la differenza con una semplice firma ma se tutti firmiamo un appello chiedendo a un governo a un regime a un gruppo di persone che abbiano che vedere qualcosa tra i diritti umani che fanno qualcosa che non devono il potere infatti noi un altro slogan che si usa è la tua firma ha un potere firmare ha un potere che è vero perché ognuno di noi ha un conta realmente poi e fa la differenza una cosa che fanno i gruppi di admisi non solo qua in Italia ma nel resto del mondo è con i nostri tavolini i nostri cazzevi ci vedranno sicuramente qualcuno ci avrà visto e noi ci mettiamo io vi ho visto io anche confermo ci mettiamo là e avete firmato pure certo assolutamente ci mettiamo là e chiediamo alla gente spieghiamo quale è l'appello che si sta chiedendo richiedendo si chiede alle autorità e di questa maniera tutte queste firme sono raccolti sono inviate al destinatario dipende ovviamente di qual sia il tipo d'appello certo quindi voi fate un'indagine sociale inviate i vostri volontari a capire la situazione dall'interno del paese cercate di capire quali siano state le dinamiche che hanno scatenato ingiustizie e la violazione dei diritti umani e agite per sostenere un'idea giusta esatto la cosa che quella che chiediamo è il rispetto di la dichiarazione dei diritti umani e ANMI come avevo detto prima ogni anno presenta questo rapporto questo rapporto che viene ogni sezione là dove ci siano le sezioni in ogni paese e raccolgono le informazioni di come è lo status in questo momento di questo determinato paese per esempio parlo di Argentina ok quali sono i problemi in Argentina ci sono conflitti sociali sì problemi con la gente dei popoli originari che sarebbe Indios ma però noi li chiamiamo i popoli originari e ci sono problemi di tortura in Argentina sì ci sono problemi di tortura ci sono problemi di segregazione razziali ci sono problemi di discriminazione sì ci sono e tutto viene documentato in questo ogni piccola sede di Amnesty fa un rapporto che viene unito agli altri esatto e lo potrete leggere tranquillamente lo facciamo rivedere il rapporto 2016 2017 della situazione dei diritti umani nel mondo se ne è presa cura Amnesty attraverso le proprie indagini sociali in tutto il mondo ricordiamo per chi si è messo adesso all'ascolto che siamo su Radio Impegno la radio che non dorme mai trasmettiamo su FM 977 dal campo dei miracoli dalla sede del calcio sociale che dieci mesi fa subì un attentato mafioso trasmettiamo dalle 24 alle 8 e 30 di mattina dalle 7 alle 8 e 30 trasmissione Trova Impegno questa mattina con Elvira Zaccari e ricordiamo il numero di telefono al quale potete telefonarci se avete qualche domanda io invito i nostri ascoltatori a chiedere a Juan che rappresenta Amnesty International come tutti i volontari lo rappresentano di chiedere qualche cosa se hanno delle curiosità in merito alla violazione dei diritti umani se hanno avuto modo di sperimentare esperienze nei propri viaggi personali per quanto riguarda i diritti umani la violazione e la violazione di questi e si hanno delle richieste nello specifico su questo ricordiamo il numero di telefono 0694446086 lo ripetiamo un'altra volta 0694444686 scusate ho dato i numeri all'8 bello della diretta comunque per chi ci sta seguendo online sul web sul live streaming c'è in sovraimpressione Radioimpegno con il numero di telefono ci potete trovare sul sito www.radioimpegno.it su facebook.com slash radioimpegno oppure su TuneIn seguirci insomma abbiamo vari modi per farci sentire Radioimpegno è una radio libera e dà l'occasione la possibilità a tutti di esprimersi liberamente senza fine editoriali e quindi ogni componente di Radioimpegno è editore di essa stessa siamo qui con Juan José Malgarini che ci sta spiegando il funzionamento di Amnesty nel mondo cosa significa battersi per i diritti umani cosa sono i diritti umani e quali siano i resoconti di Amnesty annuali che vengono inviati insomma in sede centrale per fare il punto in tutto il mondo Amnesty è presente in tutto il mondo come abbiamo detto prima si trova sul sito a livello internazionale admissi.org admissi.it e dopo admissi Lazio potete insomma trovare tutti gli appelli fatti da Amnesty sottoscriverli attraverso l'email e i dati personali online oppure senza mettere troppe cose non chiediamo il numero di documenti il codice fiscale si chiede l'indirizzo a livello quando dobbiamo firmare il documento di cartaccio si chiede l'indirizzo e la città di appartenenza ma è online ancora molto più snella ancora più snella l'ho firmata anche io e dopo c'è la possibilità di farlo a cascarago esatto addirittura si può chiedere di restare in contatto con Amnesty esatto e questo volevo dirvi potete ricevere la newsletter settimanale mensile ma fondamentalmente potete attivarvi per lottare e venire essere parte di Amnesty semplicemente come un attivista come un volontario perché rivediamo Amnesty è democratica totalmente democratica e questo non ci sono dubbi invito a tutti quanti a partecipare a informarsi a telefonare a scrivere noi siamo su tutti i social media siamo presenti su Facebook Twitter basta cercare in Google Amnesty International Italia tutte le piattaforme esatto YouTube abbiamo tutti i video perciò non potete dire che scuse per non sapere qualcosa per fortuna all'interno del proprio organico ha anche esperto in comunicazione quindi ha una buona comunicazione ho visto è difficile avere una buona comunicazione invece Amnesty ha una grandissima comunicazione ci sono anche delle slide bellissime riassuntive infografia il web esatto che fa capire a piccoli passi anche per i bambini per i ragazzi più piccoli io volevo raccontarvi questo una delle cose molto importanti che fa Amnesty a livello sociale per così dire è EDU l'educazione ai diritti umani io da due anni ho cominciato anche con questa esperienza a Monterrotondo e a Fontenuova e anche alle scuole qua a Roma perché lavoriamo sia a livello circoscrizionale che a livello di gruppo di Monterrotondo e devo dire che è veramente una cosa molto positiva perché noi a Amnesty la parte di EDU c'è quello che si chiama Amnesty Kit purtroppo non ho portato niente quindi è un'educazione vabbè è un piccolo kit le scuole se devono suscrivere devono entrare a Amnesty Kit.it e speriamo che tutte le scuole sostengano questo tipo di progetto perché devo dire devo dire che per esempio a Fontenuova abbiamo due istituti il più numeroso è quello del Sandro Bertini al quale siamo stati oggi domani mattina mi tocca andare un'altra volta siamo nelle terze e nelle quarte sono bambini veramente squisiti e devo dire che lavorare con i bambini e spiegarle a loro quello che significano i diritti umani e l'importanza del rispetto e pensavo al teatro quello che dicevi prima parlavamo e parlavo anche io questo non dovrei dirlo sono questioni personali però io credo che è fondamentale il teatro e la filosofia e le attività che fa Amnesty e Nedu sono piccole attività ludiche però che hanno un richiamo molto forte e dopo abbiamo un materiale bibliografico dei libri veramente adatti che piacciono tantissimo i bambini tutti questi libri c'è il catalogo dei libri che li potete consultare potete vedere molto materiale si può scaricare di maniera gratuita quindi anche è gratuita anche per tutti non tutti i libri devo essere sincero ma sono dei prezzi veramente giusto per simbolici simbolici per pagare per rientrare con le spese dedizione perché siete autofinanziati ripetiamo non prendete soldi da nessuno nessuno e tutto tutto questo noi dopo abbiamo delle giornate dei momenti gialli che li chiamiamo e a dicembre abbiamo la vendita del panettone e l'escorso 8 maggio abbiamo venduto e marzo chiedo scusa abbiamo venduto delle cioccolate Eccol Solidare allora colgo l'occasione per invitarti a portarli a noi per sostenere amnesty sì purtroppo solo in questi periodi le possiamo però a dicembre vi ricorderò sicuramente saremo in contatto quindi speriamo che tu riporti magari a terra di impegno io già come gruppo di Monterrotondo ecco qua c'è Giampiero che è un altro membro del gruppo di Monterrotondo il tesoriere nostro lo salutiamo è qui come un vittore però speriamo intervenga a breve sì e la questione è che noi siamo già presenti alla vostra manifestazione siamo là i primi già della mattina non so vediamo dopo come possiamo lavorare insieme però per chi ci segue in streaming ecco vieni qua Giampiero eccoli noi noi saremo saremo presenti alla vostra manifestazione credo che ho fatto ecco e pensavo che avevo fatto qualcosa con il con il microfono perfetto ci sentono ok perfetto e niente vabbè ritornando al discorso Edu per noi è molto importante perciò sì qualche insegnante o qualche genitore ci sta a sentire nello specifico Edu cosa fa cioè nella fattispecie nelle scuole all'interno della progettualità che poi la scuola consente di divulgare all'interno dell'istituto scolastico qual è il progetto cioè cosa fate materialmente allora abbiamo due Edu possiamo dire che ci sono due cose una è quello che noi chiamiamo un mystic kit dove la classe spontaneamente si iscrive attraverso internet chiede un kit una piccola valigetta dove vengono dei quaderni studiati appositamente dove si trattano di argomenti questo per le scuole medie parlo ok perché noi andiamo delle scuole dei più piccoli alla università alle primarie alla esatto ma questo è per quanto riguarda admissi kit abbiamo questi materiali dove i bambini sono atteserati con hanno l'attesera dei difensori di diritti umani a livello kit a livello bambini e per loro è una cosa bellissima se sentono parte importante di questo i bambini partecipano agli azioni urgenti che vengono fuori durante tutto l'anno purtroppo sarebbe bello che non succeda questo però lo fanno fanno attraverso dei disegni perché i bambini non possono filmare allora fanno questi questi disegni e vengono inviati in questo momento stiamo lavorando per Nuri che è un ragazzo siriano di 21 anni che chiede al governo italiano che le rilasciano il permesso di rifugiato lo statuto del rifugiato allora i bambini in questo momento stanno disegnando per lui così tutti questi disegni se se mettono insieme se lo inviano a lui che le darà sicuramente tanta tanta forza questa è una delle cose più belle secondo me esatto abbiamo lavorato a gilaio con Massima Cugna una contadina peruviana la quale le stavano togliendo la terra una compagnia miniera per l'estrazione dell'oro e i bambini li abbiamo spiegato li abbiamo raccontato le storie hanno fatto dei disegni straordinari e sono arrivati più di 150.000 disegni di bambini di tutto il mondo al Perù che bellezza e la cosa più bella è vedere i bambini come sono felicissimi quando vedono che i suoi disegni sono arrivati a destinazione e devo dire che la parte di edu formazione edu personalmente a me mi arricchisce moltissimo vedere come queste persone queste piccole persone diventeranno molti di loro diventeranno sicuramente non dico solo de admisi perché certo però c'è di nascini consapevoli esatto c'è di nascini consapevoli dopo quello per finire con edu dopo le scuole senza fare un misty kid le scuole ci chiamano per diversi progetti per quanto riguarda sempre ai diritti umani con i bambini ovviamente si parla più che altro della dichiarazione dei fanciuli e degli adolescenti intanto che con le scuole superiori e la università con la tematica specifica dei diritti umani dentro dei 30 articoli della dichiarazione perché i bambini chiaramente poi le informazioni veicolate ai bambini vanno prese quasi con le pinze a volte i bambini poi sono spugne assorbono noi ai bambini attraverso i libri li raccontiamo portiamo dei libri le raccontiamo le storie e in base a quel a un determinato libro per esempio adesso mi ricordo uno particolare a chi incorre i bambini sono rimasti molto scioccati di questo è un libro che è molto disegno e poche parole al punto che un bambino quando abbiamo finito mi dice io torno a casa e butto tutte le mie pistole tutte le mie armi questa è una delle cose fondamentali quando un bambino di 7-8 anni ti dice una cosa del genere è forte senza che non è stato toccato l'argomento delle armi ma attraverso le immagini semplici semplici disegni il bambino capisce quello che significa il valore negativo di un'arma uno ritorna a casa felicissimo perché si è vinto esatto qualcosa è entrato nella mente del bambino è partito quel sistema di cambiamento cioè sta partendo esatto quell'atto e dopo lavorare sul bullismo lavorare sul bullismo siamo stati nel nostro il nostro gruppo sì non me lo ricordavo grazie siamo stati a Poggio Moiano in una situazione ti ricordi è stato veramente nel quale noi avevamo parlato di di bullismo abbiamo fatto vedere dei video che sono sono stati fatti prodotti dei ragazzi delle scuole di Napoli e sono usciti fuori due situazioni dei ragazzi che avevano sofferto il bullismo e atti di bullismo ma la cosa incredibile di questo momento è stato che nella stessa sala avanti a loro c'erano le persone vittime carnetiche vittime grazie stavano tutti insieme tutti presenti sia il bullizzato che il bullo una cosa impressionante è stata una cosa impressionante sì sì era una lì per lì è stata una io credo che situazioni come queste non non erano dentro noi non abbiamo le competenze per dire per seguire questo a livello psicologico perché non è il nostro campo noi non andiamo ma noi andiamo a parlare di quello che significa il bullismo di quanto fa male e quanto te togli tutti i tuoi diritti e quando ci troviamo in questa situazione veramente io noi pensiamo sempre che siano cose distaccate dal contesto in cui viviamo che siano cose strane a quei piccoli contesti che viviamo tutti i giorni invece sono situazioni quotidiane che sollevate nel modo giusto vengono poi fuori e quindi uscendo fuori si sviscerano questi argomenti e forse si riesce a combatterle ed è una cosa estremamente bella io penso che questi siano i progetti più belli sicuramente Amnesty si occupa a tutto tondo di diritti umani ma soprattutto nella formazione degli adulti del domani è meraviglioso e fondamentale è fondamentale questo è fondamentale riguardo una domanda riguardo la questione del bullismo appunto durante questa riunione che avete fatto uscita fuori automaticamente nel senso sono stati bambini è spontaneo a confessare ah quindi il bambino bullizzato a confessare esatto noi le avevamo chiesto se loro avevano si volevano allora noi quando facciamo formazione fondamentalmente quello che noi lasciamo la consegna dopodiché facciamo di chi che pensiamo che pensi che pensi di questo di questo argomento che pensi di rifugiati che pensi di questa persona di Giulio Reggeni che pensi di Massimo che pensi del bullismo hai qualcosa da dirci e tirano fuori una lettera dice io l'ho scritta e a me mi succede questo 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 veramente si fa silenzio era quante erano non ricordo perché veramente erano una trentina di ragazzi nella stessa scuola era una cosa incredibile era una cosa per me era surreale che una ragazza abbia il coraggio e questo ha che ha fatto ha fatto che un'altra è spinta a un'altra a raccontarlo con un'altra visione però sempre con il dolore e la sofferenza una rete di solidarietà esatto e questo ci si alza poi tutti insieme e si capisce la cosa fondamentale cioè che parlarne è il modo migliore per risolverlo e questo ha tirato fuori una situazione questa ragazza si rinchiudeva in se stessa a casa e si provava delle fede quindi poi ci sono poi anche dei fenomeni psicologici che portano a patologie quindi i ragazzi se non accompagnati dall'inizio se non educati a questi valori e principi della vita scaturiranno patologie che influenzeranno sicuramente la società condizioneranno tutto condizionano l'esistenza proprio totale non solo la loro parte attiva come cittadini ma anche nella persona quindi nello sviluppo interiore della persona e per finire questo discorso la cosa positiva di tutto questo si è vero che non è il nostro compito ha tirato fuori questo conflitto che loro già erano consapevoli per questo ci avevano chiamato ci avevano chiamato pure esclusivamente per parlare di ebulismo ma loro non si immaginavano che usciva fuori una cosa del genere e grazie che ha successo questo la scuola si è dovuto attivare per che questo non avvenga ma ovviamente che non perché noi andiamo a fare un intervento due o prossimamente dobbiamo andare a fare un terzo intervento noi andiamo solo a parlare ma sono felice che Anmi sia andato a mettere come così dire il dito nella piaga il primo step perché di questa maniera esce fuori magari possiamo però non è insisto non è il nostro compito andare a rilevare casi di ebulismo noi andiamo a fare una a sensibilizzare a sensibilizzare sull'argomento secondo me infatti questo è fondamentale dare ai ragazzi questo appoggio in maniera continuativa in tutti i step diciamo educativi questo secondo me è fondamentale perché non lasciate solo il ragazzo e lo abituate sin da piccolo appunto a questa mentalità che in senso all'interesse verso questi temi al parlare di questi temi di questi problemi dove non bisogna essere perché noi consideriamo adesso non vorrei fare tutto un discorso sul bullismo però dobbiamo sapere che il bullismo è la somma di diverse situazioni di violenza che vanno oltre lo scherzo che vanno oltre lo scherzo che vanno oltre alle dinamiche di aggressione di violenza perché anche il cyberbullismo che hanno che vedere psicologico esatto però che hanno che vedere fondamentalmente con la discriminazione con nasce di un processo di discriminazione del pregiudizio grazie e questo e nel secondo incontro abbiamo parlato anche dei pregiudizi e veramente sono usciti di pregiudizi terribili sezzisti omofobi razzisti xenofobi in senso generale esatto sì 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 la seconda volta che siamo stati siamo andati era vicino alla epoca alla giornata della Shoah e questo pure l'ho sentito entre i gruppi i gruppi perché noi formiamo diversi gruppi noi le formiamo per le attività per dividere e in automatico loro vogliono aggrupparsi e ci sono gruppi che rispondono a una determinata visione alla loro visione e dopo ci sono gruppi dove manifestano apertamente la sua le sue fovie le sue sistemi di pensiero quindi parliamo di apertura emotiva nei confronti dei diritti umani per quanto riguarda gli adulti e la formazione degli individui del domani per quanto riguarda i bambini io penso che questa sia una cosa meravigliosa io ti ringrazio Juan per essere venuto a parlare con noi io ringrazio Amnesty International per essere intervenuta qui a Radio Impegno la radio che non dorme mai ricordiamo Radio Impegno una radio libera nata dieci mesi fa dopo un attentato mafioso potrete trovarci su youtube e si scusate potete trovarci su facebook su facebook.com slash radioimpegno è tarda anche per me l'ora potete trovarci su tune in seguirci oppure sul sito www.radioimpegno.it diteci la vostra chiamateci se avete qualche domanda in particolare o se volete semplicemente raccontarci qualcosa al numero 06 94 44 60 86 e con questa bellissima introduzione al tema dei diritti umani di Juan noi vi lasciamo con un brano musicale di David Bowie salutiamo Juan grazie di Monterodondo siete un grande esempio vi aspettiamo a Giampiero che beve Giampiero Colombo il nostro tesoriere il tesoriere ricordiamo tutti quanti vi invitiamo di nuovo a andare a vedere il sito di Amnesty e rispondere agli appelli che Amnesty propone al mondo su org o su it indipendente poi dal linguaggio orientiamo su it poi gli italiani che convergono lì va bene io ti ringrazio Juan grazie ancora a voi a presto e buonanotte a tutti i radioascoltatori grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti